Benvenuti, sono Davide il responsabile Atex della RIDART. Oggi vi parlerò del circuito di equilibrio. Vi darò un po' di informazioni per scegliere qual è il prodotto giusto per voi. Abbiamo tre tipologie di dispositivi da inserire all'interno del circuito. La prima famiglia di prodotti sono gli sfiati liberi. Hanno delle retine al loro interno che evitano l'ingresso nel serbatoio di insetti e la nidificazione degli uccelli. Il funghetto, al suo interno anche lui ha una retina e quelli che in gergo vengono chiamati telefoni perché assomigliano ai telefoni anni 80. Il nostro articolo di punta è questo, la nostra 197NP. È una valvola pressione-depressione che permette di preservare il carburante all'interno del vostro serbatoio, permette di avere un equilibrio con l'atmosfera, quindi in caso di sovrappressione il piattello centrale si alza, permette l'uscita dei vapori e si richiude appena la pressione è tornata costante. Il piattello ha anche un'altra funzione, quella di depressione. Se il serbatoio ha bisogno di aria, lui si apre, fa entrare l'aria necessaria e poi si richiude. Ma questo è il cuore del nostro prodotto certificato, un vero fermafiamma, un ribbon coil certificato secondo la nuova normativa Atex. È in acciaio inossidabile, salva il vostro serbatoio da una possibile sorgente di innesco esterna. Abbiamo quattro tipologie di prodotti. La prima è da utilizzare per carburanti tradizionali come benzina, e gasolio. È fatta in alluminio, ha un piattello in ottone e delle guarnizioni in byton. La seconda ha il corpo in alluminio ma viene ricoperto in teflon, il piattello in acciaio e le guarnizioni in teflon. Viene utilizzata per carburanti speciali o solventi o prodotti chimici comunque non troppo aggressivi. La terza tipologia è completamente in acciaio inossidabile, da utilizzare per con solventi forti, basi forti o acidi forti. Se anche l'acciaio inossidabile non basta, abbiamo questa per le emissioni impossibili, tutta completamente in teflon. Abbiamo un ventaglio molto ampio per quanto riguarda le dimensioni. Partiamo dalla versione 2 pollici per passare alla 3, alla 4, salendo alla 6 e così via. In base alle esigenze del vostro osservatoio possiamo produrre e certificare qualsiasi tipo di sfiato. Potete arricchire la vostra linea di equilibrio con altri dispositivi di sicurezza come un rompifiamma di linea, al suo interno ci sono due ribbon coil e vi permette di isolare la tubazione. Per ridurre al minimo i rischi di esplosione del vostro osservatoio vi consiglio di utilizzare il nostro saturatore. Questo prodotto permette all'aria in ingresso al vostro osservatoio di saturarsi in modo da uscire dalla percentuale di esplosività. Il saturatore è collegato a una vaschetta di gorgogliamento, questa, che permette all'aria in ingresso al serbatoio di gorgogliare e saturarsi. L'ultimo dispositivo di sicurezza che dovete installare se il vostro impianto è adiacente a delle abitazioni è il filtro a carboni attivi. Al suo interno c'è un sacchetto contenente dei carboni attivi. Questo permette di filtrare e assorbire tutti gli inquinanti organici. Per scegliere il prodotto giusto dobbiamo considerare il panorama legislativo, le leggi sociali e le normative di prodotto. In base a questi tre aspetti possiamo scegliere il nostro dispositivo. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo solo una cosa, quando progettate o realizzate un impianto la prima cosa a cui dovete pensare è la sicurezza delle persone e questo può essere fatto solo rispettando le norme, comprando e installando prodotti certificati. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e non esitate a contattarci per qualsiasi tipo di informazione. Grazie. 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 Grazie.